Smuttamenti, asfalti dissestati e buche come voragini. Il maltempo dei mesi scorsi non ha di certo aiutato alla situazione. Sono infatti aumentate a dismisura le richieste di risarcimento danni presentate all'amministrazione comunale di Fano per il cattivo stato di manutenzione delle strade. Diventate ormai un vero e proprio percorso ad ostacoli, oltre a danneggiare i veicoli rischiano di creare pericoli, in particolare ai conducenti delle due ruote. Annunciati mesi fa dal sindaco Massimo Seri e confermati dall'assessore Marco Paolini, dopo Pasqua ripartiranno i lavori di manutenzione delle strade comunali più bisognose. Passate le vacanze di Pasqua, le condizioni climatiche ci auguriamo che siano idonee a far ripartire i lavori di asfaltatura, quindi quelli dell'appalto da un milione di euro che era stato sospeso nell'inverno, secondo un programma che prevede l'area intorno all'ospedale, quel quartiere, e poi si passerà ad intervenire in alcune strade di campagna effettivamente disastrate e quindi daremo alcune risposte. Si conta entro il mese di giugno più o meno? Sì, ecco, nelle strade di campagna e periferiche, sì, quelle intorno all'ospedale un attimo prima, subito dopo Pasqua. I tratti stradali interessati da aprile a giugno saranno via Giordano Bruno, via Prospero de Borgarucci, via Maria Pizzagalli, via Luigi Lelli, via Antonio Giuglini, via Beniamino Gigli, parte di via del Ponte, un tratto della strada comunale Sant'Elia, la strada comunale delle Cerquelle, quella del Giardino, Piazzale San Paolo, parte di via Ugo Bassi e via Ciro Menotti. Oltre a questi interventi poi si aggiunge un appalto da 266 mila euro, approvato lo scorso autunno e che prevede lavori nelle zone periferiche e in quelle limitrofe al centro storico, come nella strada della Tomba, strada della Galassa, via Pattuccia, strada comunale del Giardino e quella di Carrara Ferreto. In queste verranno eseguiti sia risanamenti che asfaltature.